salve a tutti sono simone ruggiati e sono qua per presentarvi city che cos'è una cucina ovviamente bellissima ma accessibile a tutti missionando un po di effetto vintage quindi con il legno la piastrella a un qualcosa più urban style queste linee pulite l'acciaio soprattutto abbiamo ottenuto una cucina moderna ma non per questo meno accogliente soprattutto funzionale stosa ha mixato i propri ingredienti principali che sono design ricerca ergonomia e appunto funzionalità per ottenere una cucina dove io soprattutto quando mi trovo a cucinare a casa posso farlo tranquillamente senza rinunciare a nulla accessibilità per stosa significa partire dai valori aziendali che d'oltre 50 anni si traducono in qualità totale delle sue cucine partendo dalla produzione e dai materiali ad esempio sono esclusivamente prodotte in italia con materiale componenti unicamente made in italy ecco perché con una cucina stosa vi portate a casa un prodotto dell'eccellenza creativa e produttiva italiana prima di tutto la cucina deve essere ai vostri comandi con tutti gli elettrodomestici che servono e soprattutto delle migliori marche ma una cucina deve essere pratica e resistente ecco perché stosa utilizza materiali speciali come il fenix praticamente indistruttibile con alta resistenza ai graffi alle macchie e agli urti facile da pulire e con un'ampia gamma di colori queste ante sono in laminato hpl e hanno uno spessore maggiore rispetto allo standard questo significa resistenza e massima durata nel tempo la flessibilità progettuale di una cucina stosa è praticamente infinita hai la possibilità di inserire vani a giorno sistemi estraibili e girevoli con portata dei cassetti e dei cestoni fino a 60 kg e in più puoi personalizzare la cucina con schienali magnetici e creare soluzioni living integrate alla cucina per sfruttare lo spazio nel migliore dei modi puoi scegliere la tua cucina nei materiali più nobili o nelle soluzioni più smart con un'ampia gamma di finitura e quando scegliete una cucina pensate alla salute perché una cucina stosa è prodotta interamente con materiali e vernici ecologici e certificati beh come vedete a una cucina stosa non manca assolutamente nulla il prezzo mi chiedete è lì la sorpresa ecologica ed economica rivolgetevi con fiducia a un rivenditore stosa in italia e fatevi fare un preventivo gratuito e scoprirete che stosa è una mica davvero speciale soprattutto nel prezzo